Scadranno tra pochi giorni le ordinanze estive del sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, che ha imposto la circolazione in costume o a torso nudo solo al mare, il limite sulle emissioni sonore per bar e ristoranti autorizzati a suonare sino alla mezzanotte, il divieto di bivacco a campamento e campeggio al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali usi, il divieto di accendere candele e citronelle nel centro storico per salvaguardare le mura. Un primo bilancio lo fa l'Associazione Abitanti Amici del Centro Storico, che ha sollecitato ad inizio stagione l'intervento del primo cittadino. La stagione estiva si chiude con gli stessi problemi irrisolti, cioè noi non abbiamo ancora un piano del traffico che consenta alle persone che arrivano da fuori di trovare un servizio di trasporto urbano degno di questo nome, non abbiamo un piano parcheggi ed è uno dei problemi. ancora continuiamo ad avere problemi con l'occupazione di suolo pubblico che viene fatta in maniera disinvolta e non viene sanzionata. Le ordinanze sono state belle a leggersi e a fare un po' di pubblicità, ma non sono servite perché non sono state applicate. A cominciare dall'ordinanza che impedisce le emissioni sonore dopo la mezzanotte non è stata applicata. L'ordinanza che imponeva agli esercenti di schermare i contenitori dei rifiuti non è stata rispettata per la maggior parte dei casi. Quindi non è sufficiente fare le ordinanze se poi queste vengono disapplicate. Bisogna aprire un confronto con l'amministrazione comunale perché dal prossimo anno si provvede in maniera molto più adeguata a fare opera di prevenzione.